Finale, Liviero con Bacchia Monogatari contro Oscar con Madoka Magica Scontro di titani Due Due Scusate per questi inconvenienti Ah non l'ho detto Ciao mamma Mamma sono in finale La prima volta Pesco uno Quando entra c'è quella prima Sopra sotto Pesco scatto Lei finché ho un pezzo Tre pezzi o meno Prende più di cinque Pesco scatto Adesso l'altro giorno Vai Sono ben due sgatti E manca un po' di odio Questo sopra Nel frattempo Ben sei L'autore Ne avevo dieci Dicevo E' già stato una cosa Soprte che era la scelta C'era la scelta Con un po' lo sei Infatti ho fatto il messaggio su Twitter Ma tre mila perché c'è un'altra Rosario Sì sto andando via dalla tinta E qualche consiglio Grazie 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 Sì lui Che mi ha fatto andare Così posso Mi lo serve Sto andando Così No Sono Forse no Di dove Sono Tre e mezzo Ok Sì sono Allora Senza anche Va bene Va bene Cosa fare Ti schianto Passo 500 qua Che rotto Guarda lì Vediamo Si qualificherà Direttamente Vado dritto Volevo evitare La combottina Però Bello Belli wish Oscar Sai che mi toccherà Pura Sì in gioco C'è Adesso Tocca 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 Mi raccomando Allora Quello che è in mano È la tua mano Questo si chiama Mazzo Questo si chiama Whitey Room E quello è lo stock Whitey Room Whitey Room Whitey Room Porte Mi raccomando Non scambiarle Tu rimani qua Tu rimani qua Tu rimani qua Peccato No Sì in gioco No Secondo te Cos'è Questa è una roca Escono prima Guarda C'è parte Denzo al primo Gioco lei che fa brainstorm Repetive Ma Vado a vedere Ma tu ce l'hai Sì in gioco Il brano Non lo sappia E' una cosa In senso E' una cosa Ovviamente C'era C'era Io invece parla Come che fa' Precca' E' una cosa E' una cosa C'è C'è Ma non c'è lì, no! Ma non c'è lì, no! E lo fassi, lo fassi Il Denevi Kanjiku, kanjiku Scarto Cerchi di trastore Eh, fai solo trastore Cazzo si ha La macchina semina Con Patressi Bruno Vai! Vai Oscar! Vai Lidio! Vai! Vai, vai! Non tornare Oh, credo Ma almeno cambia l'aria Non tornare Ma che? 5,5 Ma se finisci di incitare gli avversari Ehm... 6,6 lì Beh, quando ho tacco il 6 No, ma dovresti avere experience 5,5 E poi fai a conoscere questo mazzo No Ricky! Eh Riesci a passare un anno? Ehm Allora Il climax? Ma non è Quattro Quattro Vedi se mi ricordo l'altro Sì Sì La prima partita contro Di lui Quando ho fatto la partita con lui Ehm Mi ha detto Le ultime c'hai diventata che Mi ricordo Vado? Voi 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 Vesco 5,5 No No C'è Il climax? Si Si C'è 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 e faceva l'altro nel ricordo e dopo poi si sentono le tue stronzate nei video lui gli ho visto macelle e gli ho visto fare i giri di parole per poter macelle quando l'ho visto infatti io ho chiesto subito ma quella racista dei macelle io non mi ricordo che l'ho visto macelle si? non mi ricordo tutte le carte se poi sinceramente si no ok ok però nel caso su dubbi è meglio chiamato nel caso comunque chiamato si perchè sta funzionando ragazzi non è il circo l'ultimo video non si sentiva una merda di quello che dicevamo nei due perchè c'eravate voi ma c'eravate i palletti eh vedi eh picchio prima quella sono due sono tre che rotto di merda la riviera picca tre ma con che cazzatura l'ha detto? mi raccomando picca per due tra quattro eeeh ma allora allora puoi anche andare e farti dare un bacio sul buco dei cunni eeeh 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 e chiudi quella cazzo di finestra che sto morendo vai stai muorendo li o stai muorendo? vai aspetta stava un danno così le carte sono tutti danni questi forse non ricordo è un backup c'è il pugno va bene il lupo di dubbio io spara guardale è tutta sberle questa basta sorrasciare ma che essere umano di merda sei Livio? che uomo di merda che uomo di merda che uomo di merda che uomo di merda tocca 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 ma io non l'ho visti siii è la prima attaccia vai 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 ma la piatta di scula ma vuole dare la mia mano? uuuuuh vai 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 ho rotto in culo li prende tutti no ma siamo pari ma siamo pari non sia figa dentro diro i nostri i nostri silenzio ragazzi salvo lei silenzio forte hai capito ne salva una a caso è così forte che non ha neanche bisogno pesco forca troia forte che bello pescarlo spera di non pescarne un'altra ma tu speri di avere un altro te che mascar si oddio faccio un altro puoi raccogliere le lacrime da qualche parte cosa tutto o no facciamo guardare le mani e le due zio ne ho uno ma tu si pochi è clio e pensa che devi ancora attaccare tre volti ma dove sono che cazzo che cazzo devo fare che cazzo devo fare che cazzo uno vede vesta via vesta via dai posso ancora ma adesso non curi tu secondo me primo attacco trigger non lo dico che l'imagine io l'ho fatto e lì tipo ribalta il tavolo io ti racco la testa e fai bene ma tu parlerai che bella partita ragionata ma in mano ce li ho picchio per tre per tre eeeh eeeh ho preso dei dani picchio per due faccio stock guarda l'ultima capo picchio per due no dos no 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 forse provo a curarmi come sono morto non mi puoi fare aspetta magari dov'ho pesca per picchiarti più due di so più due di so wow devo fare stock con lei triga troppo quattro giusto due due tre quattro no 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 sentiamo cosa deve dire il secondo classificato non mi esprimo ma bella partita così e il primo sculone invece sta ancora morendo ci vuole dire qualcosa devo dire un momento ma non posso dire la telecamera perchè no? perchè se qualcuno lo sente grazie a tutti ragazzi la lega è finita ci vediamo l'anno prossimo LIVIO LIVIO sei un po' la merdina però eh dai ridi per noi LIVIO quanto sculi da 1 a 10 grazie